Il 18 ottobre venerdì, buongiorno, bentrovati dall'informazione del mattino di Tele Molise in regia Daniele Ricciuto. Vediamo gli argomenti della prima edizione del Tg, parleremo di sanità perché Roma tartassa il Molise. L'agonia del sistema sanitario regionale, con particolare riferimento alle deficienze del sistema emergenza-urgenza e al caso Michele Cesaride, verrà affrontata questa sera nella puntata di Moby Dick in diretta su Tele Molise dalle 21. Ospiti di Giovanni Minicozzi saranno l'avvocato Massimo Romano, Don Francesco Martino, il presidente del Consiglio Comunale di Termoli Michele Marone e il segretario della CISL Gianni Notaro. Ci saranno anche i contributi esterni del direttore generale facente funzioni dell'ASREM, nonché direttore sanitario Antonio Lucchetti, la signora Maria Rosaria Cesaride, mamma di Michele, l'avvocato Michele Urbano che rappresenta e difende la famiglia Cesaride, ed Emilio Izzo del comitato in seno al problema. Intanto ascoltiamo la signora Maria Rosaria Cesaride nell'intervista raccolta per noi da Manuela Iorio. Siamo con Maria Rosaria Alonzi, la mamma di Michele Cesaride, deciduto a luglio del 2018 per le conseguenze di un'emoragia cerebrale. C'è un'inchiesta aperta, un presunto caso di mala sanità. A distanza di 15 mesi non avete ancora notizie dell'autopsia, del risultato dell'autopsia? Assolutamente no, non ancora abbiamo niente. Né gli avvocati ci interpellano e né la giustizia, purtroppo, che non fa il proprio percorso, non sappiamo niente, niente, niente. Anche se l'allora giudice Fabio Papa aveva dato 60 giorni per poterci fare avere i risultati dell'autopsia, anche se poi gli anatomi patologi hanno chiesto 90, però né 60 né 90 siamo arrivati a 15 mesi e noi non ancora abbiamo il risultato dell'autopsia. Voi avete fatto un gesto bellissimo che è stato quello di donare gli organi di suo figlio. Sono stati donati il cuore, i reni e il fegato. Lei però prima ha raccontato una cosa, ha detto che i polmoni erano stati danneggiati, le hanno detto. Sì, noi a San Giovanni Rotondo, dove è stato fatto l'espianto degli organi di mio figlio, mi ha detto l'anestesista che non sono stati potuti espiantare i polmoni perché mentre facevano l'intubazione a termoli, purtroppo gliel'hanno danneggiati e lui ci teneva tanto a donare i polmoni perché il papà è morto, era affetto da patologia polmonare. Cambiamo decisamente argomento. Per la prima volta in Italia è stata realizzata una mappa delle zone del paese dove è impossibile o quasi telefonare con i cellulari per l'assenza di segnale. Nella blacklist dei senza campo ci sono anche 14 paesi molisani. Vediamo quali sono nel servizio di Enzo Luongo. Le aree del Molise finite nella blacklist dei cellulari sono ben 14. Si tratta di paesi dove con modalità e problemi diversi da zona a zona il campo non c'è o è assai limitato. La singolare fotografia è dell'UNCEM, l'Unione Nazionale delle Comunità e degli Antimontani, che rappresenta quasi 4.000 comuni e che ha deciso di realizzare la prima mappa dei paesi d'Italia dove per problemi di segnale i residenti non riescono a telefonare. Il lavoro è stato realizzato negli ultimi tre mesi, ha coinvolto più di 1.200 paesi con lo scopo, hanno spiegato dall'UNCEM, di mandare un primo segnale soprattutto alla politica. Non possono esistere due Italie che viaggiano a velocità opposte. E allora vediamola la mappa dei senza campo che riguarda il Molise, realizzata attraverso le segnalazioni degli stessi comuni. Nella stragrande maggioranza dei casi interessa le aree di montagna. Si parte dall'Alto Molise con Carovilli, San Pietro Avellana, Pesco Pennataro, Pietra Abbondante e Scapoli. E poi ancora Castel del Giudice, Castel San Vincenzo, Chiauci e Sant'Angelo del Pesco. Ma non mancano altre aree della regione, da Casa Calenda a Castellino del Biferno, da Lucito a Civita, Campomarano e Monte Mitro. Per ogni zona lo studio pubblica anche il tipo di problema e in alcuni casi i nomi delle singole compagnie telefoniche che agganciano il segnale o che invece latitano. Con una certezza, la lista, almeno per quanto riguarda il Molise, è una lista tanto incompleta. Bene, dopo questa mappa, chiudiamolo la nostra informazione. Adesso passiamo alla rassegna stampa. Iniziamo dal giornale del Molise.it, in apertura la cronaca, con la notizia arrivata ieri da Isernia, operazione Galaxy della Guardia di Finanza, importazione illegale di auto, bilancio 23 arresti, evasa IVA per un totale di 7 milioni e mezzo, con fatture false per 52 milioni, ben 1.600 le auto importate legalmente. Le altre notizie Biosphere Hack, studenti molisani, realizzano una piattaforma online per vendere pacchetti turistici. Siamo a Guardiareggia con la cronaca, un arresto per droga, mentre altre notizie, vediamo da Colletorto San Giuliano di Puglia, prima borsa di studio, in memoria della professoressa Nina Di Cesare. Le altre notizie riguardano la questione dei trasporti a termoli, di essere riammesse temporaneamente, il Comune intanto chiede un tavolo urgente. In basso la sezione editoriali, idee ed opinioni, le notizie dalla Regione e dall'Italia. Analoga apertura anche su primo piano, auto di lusso a prezzi stracciati, scoperta frode all'Unione Europea, con bilancio 23 arresti. Procura e finanza di Isernia hanno sgominato un'organizzazione criminale vicina alla Camorra. Il sodalizio importava bolidi costosissimi, producendo documenti falsi per eludere le imposte. In manette anche una 54enne e un 50enne molisani si occupavano dell'immatricolazione dei veicoli. Le altre notizie, andiamo a vedere il mondo della politica, a vertice con De Micheli, Toma chiede di accelerare sulle quattro corsie. Il Governatore ha parlato di confronto costruttivo alla Ministra, opposto pure il tema delle strade provinciali. Occorrono almeno 300 milioni di euro. E a proposito di trasporti, ci spostiamo a Termoli, il raddoppio ferroviario, rete ferroviaria italiana disposta a valutare la riprogettazione. Gli altri titoli, andiamo a vedere quelli sotto la testata, bus, novità per i pendolari, l'aggiunta cambia regole su biglietti e abbonamenti. E' sempre per il trasporto, quello locale, scongiurato il taglio dei contributi, la Regione salva i comuni. Spazio anche al contratto di sviluppo, 30 milioni a Campitello e Roccomandolfi per realizzare piste da sci mai viste prima, scrive Primo Piano. Nella rubrica Il Punto, un articolo a firma di Romano Mignogna, Manovra, più Pille per tutti, e io pago. Gli altri titoli, andiamo a vedere quelli di spalla, i richiami, c'è una storia, quella di Karen Picucci, la ginecologa di Larino, che fa partorire le donne afghane. E a Campobasso, coraggiosa ottantenne, si arrampica sui tetti del centro storico per sfamare i gatti. E qui in una foto si vedono i gatti appunto sul tetto del centro storico di Campobasso. Ancora politica, Italia Viva, si alza il sipario sulla Leopolda, ecco chi va dal Molise. A fondo pagina lo sport, il calcio di serie di Lupi, Cudini, Penzal 4-3-3. Curva Nord in protesta, striscioni capovolti e 45 minuti di silenzio. Andiamo in alto Molise, a Vasto Girardi in particolare, Farina, top player, dice, mi aspettavo un avvio importante. In casa, Olimpia, agnonese, verso il derby, con il pensiero fisso del forfè di Peic. Scendiamo di categoria, in eccellenza, il Baranello affossa, il Boiano finisce 0-1. Torniamo sul web con futuro Molise, anche qui in apertura, l'operazione Galaxy, della Guardia di Finanza di Sernia, le mani della Camorra, sulle auto di lusso, bilancio 23 arresti. Si parla anche di infrastrutture, Toma, positivo l'incontro con il ministro Paola De Micheli. Spazio anche al piano di sviluppo rurale 2014-2020, in Molise, più vicino all'Europa. L'intervento dell'assessore Cavaliere, siamo tra i primi in Italia. Infine, il Consiglio nazionale dei giornalisti, l'ordine dei giornalisti, chiede alla Regione un riequilibrio del sistema dell'informazione in Molise. La tregua in Siria e l'accordo Unione Europea-Inghilterra sulla Brexit, sulle prime pagine dei quotidiani nazionali. Vediamo dunque il Corriere della Sera, sulla destra, emendamenti, la manovra è sotto assedio, Renziani e Cinque Stelle vogliono cambiarla in aula, scontro sui contanti, quota 100 e sugar tax. Grande foto l'intesa, Brexit a fine 2020. Vedete la stretta di mano tra il premier inglese Boris Johnson e il presidente Jean-Claude Juncker. In basso, Trump ottiene da Erdogan il cessare il fuoco in Siria. Tregua, missione di Pence, cinque giorni per far ritirare i kurdi. E questa è la notizia che apre l'edizione di oggi di Repubblica. 120 ore per non morire. Trump ed Erdogan uniti per imporre la resa ai kurdi. Tregua per consegnare le armi e andare via. Poi i turchi avanzeranno. I leader del Rojava replicano all'ultimatum. Dicono, pronti a rispettare il cessato del fuoco, ma non abbandoneremo il nostro popolo. Intanto nel sommario di Repubblica leggiamo ancora questa denuncia. attaccano con Napalm e bombe al fosforo. Ancara replica. Non è vero. In basso, Brexit c'è l'accordo con l'Unione Europea. E a fondo pagina, Conte, così cambieremo l'IRPEF aliquota del 20% fino a 28 mila euro. Tasse record sui vizi, scrive Repubblica. Zucchero, sigarette e slot. Uno sguardo adesso al fatto quotidiano. Ecco chi ci ruba 170 miliardi di euro l'anno. Le mappe di evasione e corruzione. 211 di economia nera, 60 di tangenti. 110 di evasione tra IRPEF, 84 da imprese autonome, Ires, IVA, IRAP. 6 da IRPEF da lavoro dipendente. In alto, Brexit, l'accordo Johnson-Unione Europea rischia il disastro alla Camera. Gli unionisti di Dublino potrebbero infatti affossare l'intesa. Dal fatto ci spostiamo al quotidiano avvenire. Vuoto esistenziale. Vediamo che significa perché il quotidiano della CE intervista la ministra delle politiche familiari sulle novità in manovra. Tanto c'è un flash mob a Montecitorio. Manifestazione del forum delle famiglie. pochi bambini subito i sostegni dicono. Tanto bonetti ad avvenire così faremo il nuovo assegno per i figli già da gennaio. A centropagina la Brexit raggiunta l'intesa e nel riquadro pronta una tregua con il ritiro dei kurdi. Si parla appunto del conflitto in Siria. Ci spostiamo sul mattino di Napoli. Quota 100 svuota i comuni, i vigili spostati negli uffici. amministrazione in tilt per la fuga dei dipendenti. Napoli anagrafe in ginocchio. Manovra tagli IRPEF dalla lotta all'evasione. Intanto Conte a Di Maio dice no a un altro consiglio dei ministri. Dagli esteri sì da Turchia sì alla tregua kurdi avranno cinque giorni per il ritiro. Adesso il manifesto innocenti evasioni il titolo di apertura Conte e Di Maio nella foto sulla manovra infatti è scontro tra i due. Il capo grillino chiede un nuovo consiglio dei ministri ma dopo il no del premier convoca per oggi la squadra di governo dei 5 stelle e insiste carcere per i grandi evasori e indulgenza per commercianti idraulici e tassisti braccio di ferro anche sul tetto al contante. E adesso il messaggero tagli IRPEF dalla lotta all'evasione manovra Conte intanto avvisa Di Maio e dice non ci sarà un altro consiglio dei ministri barricate di 5 stelle e Renziani scontro su un contante partite IVA e carcere agli evasori tassi green c'è la rivolta delle imprese a centro pagina USA Turchia nel Stato di Turchia ok al cessato il fuoco e ancora di spalla Brexit c'è l'accordo tra Johnson e l'Unione Europea Erdogan cede agli Stati Uniti è tregua titolo di apertura della stampa dunque intesa con Pence e Pompeo 5 giorni di cessato il fuoco i kurdi andranno a 20 km dal confine la Turchia canta vittoria dice abbiamo cacciato i terroristi ma non tutti gli obiettivi sono stati raggiunti sempre dagli esteri accordo con l'Unione Europea Johnson vede la Brexit Westminster dica sì o salterà tutto altro titolo vediamo un po' c'è una minaccia di Zingaretti da oggi alla Leopolda se Renzi boicotta il governo alle urne con Conte Premier quindi questo è quanto ha detto Zingaretti ora libero paese martoriato dalle tasse l'Italia si ribella in piazza contro gli Aguzzini domani tutto il centrodestra sfilerà per dire no ad una manovra che mette tanti piccoli balzelli e toglie le detrazioni a chi denuncia quello che guadagna Salvini Berlusconi e Meloni saranno insieme poi c'è un fondo di Vittorio Feltri ministro in giustizia sei agenti di custodia arrestati per torture buona fede se ne frega passiamo adesso al quotidiano romano il tempo che apre con questo titolo la fregatura dell'accordo di Malta e si parla di migranti l'astro imbazzatissima intesa con l'Unione Europea sulla redistribuzione è un danno per l'Italia sei in vigore costretti a prenderne il doppio di quelli arrivati suicidio per far rispetto a Salvini grande foto il tempo di Osho nella rubrica il tempo di Osho ideona del governo per combattere l'evasione agenti sotto copertura a giocare alle slot machine ora il sole 24 ore anche qui si parla dell'accordo Brexit c'è l'accordo con l'Unione Europea sabato il verdetto di Londra ma intanto per quanto riguarda le questioni interne manovra ora è scontro anche sulle partite IVA altissima tensione tra Conte e Di Maio sul contante e sul carcere per gli evasori tanto per la Plastic Tax un miliardo di gettito nel 2020 tassati imballaggi e bottigliette anche su questo c'è aperta polemica ci spostiamo sulla verità Conte abbassiamo le tasse infatti sono 12 miliardi in più il governo delle parole in libertà titola il quotidiano di Maurizio Belpietro in una intervista al Corriere della Sera il Premier racconta una manovra che alleggerirebbe il fisco peccato che i numeri dicano altro tra casa plastica sigarette e tagli alle detrazioni siamo già al salasso a centro pagina quest'altra notizia chiama i servizi sociali le rinchiudono la figlia anziché aiutarla a riconciliarsi con la madre la ragazza è stata internata da maggio la regione Piemonte paga 260 euro al giorno ma neppure all'assessore permettono di vederla l'accusa è questa sedata con farmaci ora il secolo punto it bavaglio in facoltà siamo a Trento impedita una conferenza stampa una conferenza chiedo scusa a Fausto Biloslavo non è di sinistra scrive il secolo Firamonti tace in basso sms di Renzi al Premier posso farti cadere subito si parla anche delle elezioni in Umbria Meloni promessa governeremo meglio del partito democratico andiamo adesso sulla gazzetta spazio a Conte Pioli il titolo di apertura la manovra di Conte dunque l'Inter prepara la sfida al governo Juve una doppia soluzione di gioco ancora più italiani in campo e quella di Pioli domenica il debutto contro il Lecce Milan il tecnico studia come rifare l'attacco di spalla il patron azzurro scatenato si parla del presidente del Napoli ciclone Aurelio dice in signe si decida Mertens e Caglione in Cina ci vadano bene insomma dopo le dichiarazioni del presidente del Napoli e in particolare sulla gazzetta dello sport terminiamo il primo appuntamento con la nostra informazione grazie per essere stati con noi alle 14 la seconda edizione del TG buona giornata grazie a tutti